Che cos'è un periodo di bear? Che cosa sta a significare l'orso nella finanza? E quali sono stati i peggiori periodi di bear nella storia della finanza? Oggi parleremo di lessico finanziario e di storia, ma in senso lato, a modo nostro ovviamente. E quindi il riferimento agli investimenti azionari. Ciao a tutti investitori, bentornati e benvenuti sul canale di Soluazioni. Io sono Roberto e l'argomento del video di oggi è i periodi peggiori di bear della storia. A cosa ci riferiamo quindi con la simbologia dell'orso? Il toro e l'orso stanno rispettivamente nella simbologia della finanza a rispecchiare il mercato rialzista e il mercato ribassista. Ma perché vengono associati a queste tendenze? Come dicevamo il toro sta a indicare il mercato che sale rialzista e questo è dovuto al tipico movimento che l'animale compie, ovvero l'incornata che va dal basso verso l'alto. Analogamente l'orso fa la stessa cosa, richiama il mercato ribassista perché il suo movimento tipico, ovvero la zampata, va dall'alto verso il basso, richiamando quindi un periodo ribassista appunto. Sono effettivamente i due animali simbolo della finanza, tanto che il toro è presente davanti a Wall Street, sotto forma di una statua chiamata Charging Bull. Piccola curiosità, il 18 marzo del 2017, alle 3 di notte, è stata posta la statua Fairless Girl davanti alla più famosa statua del toro. La ragazza, realizzata da Kristen Wiesbaw, con lo scopo di sensibilizzare maggiormente nel mondo della finanza il ruolo delle donne. Ruolo delle donne che tipicamente nel mondo di Wall Street viene messo in secondo piano. E comunque c'è questa statua, questa Fairless Girl, questa ragazzina di un metro e venti, che fissa con aria di sfida negli occhi il toro. Non è ancora presente lì perché poi è stata spostata nel 2018, venendo posta davanti alla borsa di New York. Infatti ci fu una grossa polemica al riguardo. Polemica che tendeva su vari temi, tra cui il fatto che questa statua di Kristen Wiesbaw sfruttava la notorietà maggiore del toro, del Charging Bull. Ma comunque ci sono anche altri motivi di cui non staremo a discutere in questo video perché non è questo il luogo adatto. Torniamo al Charging Bull. Statua creata da Arturo Di Modica, scultore italiano naturalizzato statunitense. Che è posta davanti al Bowling Green Park. In pratica è relativamente situata dove è presente la borsa new yorkese. Peso di 3 tonnellate e prezzo di 360 mila dollari per essere realizzata. Spese sostenute dall'artista. Posta nell'89 davanti alla borsa di New York, senza autorizzazione, stava a indicare la forza, la capacità, la potenza che aveva permesso la ripresa economica degli Stati Uniti dopo la crisi dell'87. Toro e Orso invece insieme sono presenti davanti al Frankfurt Stock Exchange e sono queste due sculture situate a Francoforte in Germania ovviamente. Quindi, tornando al topic centrale del video, quando si parla di Bull Period ci si riferisce a periodi rialzisti mentre quando si parla di Beer Period ci si riferisce a periodi ribassisti. Tecnicamente un mercato ribassista si verifica nel momento in cui si ha un calo del 20% o più rispetto ai massimi recenti. Generalmente invece ci si riferisce ai Beer Period anche quando si ha un calo del 10% da un giorno all'altro. Quindi, quando parliamo di peggiori periodi di Beer stiamo riferendoci alle peggiori crisi della storia e quindi oggi andremo a parlare delle seguenti sei crisi. Se vi piacerà il video, in ogni caso lasciateci un commento qui sotto e magari ne faremo un altro in cui parleremo di altre crisi o magari di altri periodi rialzisti. Insomma, fateci sapere qui sotto nei commenti. La prima crisi è la bolla dei tulipani ulandesi del 1634. La seconda crisi, invece, è il crollo d'ottobre del 1929, il martedì nero. La terza crisi è il Black Monday del 1987. Quarta crisi è la bolla .com. La quinta crisi è la grande recessione. E la sesta crisi, molto attuale, è la crisi del Covid-19. Ma partiamo subito e parliamo subito della bolla dei tulipani. Chiamata anche tulipanomania in inglese Dutch Tulip Bulb Market Bubble uno dei nomi più difficili che io abbia mai pronunciato in inglese che letteralmente in italiano significa bolla olandese dei bulbi di tulipano. Ed è una bolla avvenuta nei primi anni del 1600 in Olanda. Arrivati a fine 1500 dalla Turchia in Europa apprezzati per la loro esoticità divennero immediatamente un bene di lusso. Dai più ricchi fino ai mercanti crebbe questo trend. Ed essendo il fiore molto delicato diversi coltivatori professionisti convertirono e affittarono le proprie tecniche per la coltivazione di questo fiore in loco. Piccola curiosità, particolare attenzione ebbe una variazione con particolari strisce di diverso colore che veniva chiamata tulipano dal bulborotto. Quindi molto velocemente è cresciuta la domanda crebbe anche la speculazione. Il prezzo medio si girava tra i 4000 e i 5000 fiorini. Pensate che il trend fu così forte che vennero istituiti mercati dedicati alla compravendita del fiore. Attraverso la leva finanziaria e vari intermediari molte persone incominciarono ad investire in questo mercato ma nel 1637 i prezzi incominciarono a scendere. Per questo i bulbi presi a credito al fine di specularci sopra incominciarono a perdere il prezzo e indovinate? L'investimento non era più così conveniente e quindi il prezzo a cui avevano comprato questi bulbi era maggiore rispetto a quello a cui potevano venderli. Nel 1638 il prezzo dei tulipani era tornato alle origini. Molti dichiararono bancarotta quindi la bolla esplose ed eccoci qua la crisi dei tulipani. Senza perderci in chiacchiere passiamo dalla crisi dei tulipani al martedì in Nero. Il big crash avvenne il 29 ottobre del 1929. Iniziò già il 24 ottobre ma le grandi conseguenze si ebbero nei giorni successivi e negli anni successivi dando inizio quindi alla grande depressione. Il picco più basso del Dow Jones si ebbe l'8 luglio del 1932. Ad oggi il più grande beer period della storia. L'indice toccò il meno 89%. Solo nel 54 il Dow Jones riuscì a ritoccare il massimo che aveva toccato prima di questo minimo del 32. Per renderci conto chi aveva investito prima del 32 ha dovuto aspettare 24 anni per rivedere il titolo salire ai massimi che erano prima. In quel momento di mercato si verificò un periodo di panico unico. Dopo aver venduto oltre 16 milioni nel New York Stock Exchange ci fu una ripercussione su tutte le altre borse statunitensi. Con il crollo del 29 di Wall Street si definisce, accademicamente, l'inizio della grande depressione. Non possiamo soffermarci su tutte le cause scatenanti questa crisi né possiamo contestualizzare troppo il periodo storico. Ma se doveste essere interessati a una di queste crisi o a più di queste crisi fatecelo sapere e noi faremo un video dedicato appositamente a questo. Parliamo ora del terzo beer period. Quando si parla di lunedì nero si fa riferimento immediatamente al 19 ottobre del 1987, quel maledetto lunedì. Potreste non ricordare che giorno della settimana è oggi ma dovete per forza ricordare che giorno della settimana era il 19 ottobre dell'87. In questo caso in un sol giorno il Dow Jones perse il 22%. Dal Black Monday, uno dei giorni più famosi della storia finanziaria, c'è stato un periodo ribassista tale da aver portato a meno 20% la maggior parte delle borse entro un mese. Dal Black Monday comunque la SEC ha imparato e ha, così di conseguenza, adoperato sistemi di difesa e interruttori per evitare che ci siano altri panic selling period. Passiamo alla quarta bolla, la dot com. Parlando e riferendoci a questa crisi ci riferiamo a quel periodo di fine anni 90 in cui ci fu un rialzo dei titoli tecnologici statunitensi. Il Nasdaq, tipico indice tecnologico di riferimento, passò da 1000 a più di 5000 tra il 95 e il 2000. Cosa succede quindi a questo punto? Molte aziende basate su internet nacquero, crebbero e cercarono di cavalcare il trend. La strategia era molto, tra virgolette, semplice. L'obiettivo era quello di crescere esponenzialmente attraverso il marketing, diventando leader in un determinato settore, col fine di cavalcare quello che era il nuovo trend, la nuova wave. Si considerava internet il futuro e si diceva che si doveva entrare in tempo ed effettivamente internet diventò il futuro. Ora immaginate questo periodo in cui il settore tecnologico è visto da tutti come il futuro, da istituzioni e non. E le aziende, pur fatturando quasi zero, investono tutto al fine di crescere, per cavalcare l'onda. Però il 4 ottobre del 2002 il calo fu drastico. Il settore che aveva visto una crescita immensa negli ultimi 5 anni degli anni 90 è il Nasdaq, che era arrivato a quota 5000,48, passò a 1000,139 con un calo del 76 e oltre per cento. Molte aziende fallirono e aziende che anche oggi esistono e che vengono definite big tech, i colossi, subirono molte perdite. Anche se effettivamente resistettero e crebbero in futuro. Si parla di Oracle, Google, Amazon, Intel, Cisco. Dopo 15 anni si manifesta quella crescita del settore tecnologico che ci si auspicava a inizio degli anni 2000. Ma nel frattempo molti capitali vennero bruciati e molte aziende fallirono. Passiamo immediatamente alla quinta crisi, si parla di grande recessione. E si intende la crisi mondiale che si ebbe tra il 2007 e il 2013. Si utilizza questa dicitura per due casi. Sia quella statunitense di crisi iniziata a dicembre 2007 e finita a giugno 2009. Sia alla recessione globale del 2009. Da considerarsi la più significativa crisi dalla grande depressione, si verificò quando si ebbe un passaggio dal boom immobiliare al calo a picco. Quindi, come avrete notato, ormai avrete capito, siamo davanti a una grande bolla. C'è un rigonfiamento dei prezzi e poi questa bolla esplode. Perché ogni bolla prima o poi è destinata ad esplodere. Secondo il financial crisis, in un rapporto del 2011, la grande recessione poteva essere evitata. E le cause che portarono a questa sono le seguenti. L'incapacità del governo di regolamentare i mercati e della Fed di fermare i prestiti eccessivi. Troppe società finanziarie esposte esageratamente al rischio. Eccessivo indebitamento dei consumatori. Questi sono i motivi principali che portarono a questo evento. Ora parliamo infine della sesta e ultima crisi. Stiamo parlando di una crisi che conoscete e che state vivendo perché è la crisi del covid-19. E' vero che alcune aziende hanno risentito positivamente della pandemia. Ma questo non vuol dire che sia stata una crescita positiva per tutti. Anzi, l'economia globale ne ha risentito. Ve ne abbiamo parlato di qua e di là nei nostri video, contestualizzando in base alle varie aziende o ai vari settori di cui parlavamo. Ma prendendo di petto direttamente la questione, ci sono dei fatti da considerare. Settori come il petrolio o il turismo, ma anche piccole aziende, piccole imprese o aziende più grandi che hanno sofferto la pandemia, ma questo non è tutto. Perché? Perché ovviamente ci sono state delle conseguenze. Anche le nazioni colpite poco dal coronavirus hanno subito dei contraccolpi a livello di commercio globale. Le banche mondiali, anche se fanno traspirare ottimismo, ottimismo per le ripartenze più necessario che altro, prevedono un decennio di crescita inferiore rispetto a quello che si avrebbe avuto senza il covid. Inoltre i paesi si sono indebitati in maniera spropositata per controbattere ovviamente la crisi in atto e se dovesse nuovamente esserci un evento simile nel breve periodo, questo porterebbe al collasso delle economie mondiali. Basti pensare nel nostro piccolo a tutti quegli imprenditori che sono dovuti restare fermi. Bene, anche per oggi è tutto. Io come sempre vi invito a lasciare un like, un commento, a iscrivervi al canale e attivare le campanelle delle notifiche, un feedback positivo o negativo, l'importante è che sia costruttivo. Vi invito inoltre a passare dalla nostra pagina Instagram. Se vi piacciono i nostri contenuti, a seguirci e a lasciare un follow e anche lì attivare la campanella delle notifiche. Anche per oggi è tutto, alla prossima investitori! Grazie! Grazie!